Buonasera, siamo a Moritani Forum oggi per seguire l'ultima giornata di stagione regolare del campionato di Serie B che vede davanti la Vivenza, Silvorno 1947 e il Varese, una partita fondamentale per tutte le formazioni. Stasera QB ci avrà accesso ai Pre-8, quindi potrebbe anche essere considerata una gara setta. All'andata vinse Varese sul proprio campo per 80-72 e stasera i ragazzi di Corcia Andreazza cercheranno di rivartare di più capo dell'andata e conquistare l'accesso a Piove. La partita inizierà alle ore 18, praticamente fra meno di un'ora e noi saremo qui a seguirla sul nostro account Twitter, vedete le due formazioni che sul campo stanno facendo il riscatamento pre-partita da semilare una mancanza tra le fila Maranto di Marchini e di Ammannato, come sempre, ma Marchini è giocatore fondamentale. Partita fondamentale appunto per tutti e tutti i latonici. In corte coranea stasera la Pial Livorno avrà la sua ultima partita di stagione regolare, una stagione dove le figlie hanno raggiunto il loro obiettivo di conquistare la permanenza nel campionato, avranno l'ultima partita in casa del panino di coda a Borgomanero che ormai non ha più nulla da chiedere essendo l'ultima con 8 punti. Appuntamento quindi alle ore 18 e noi seguiremo sui nostri account Twitter la partita accantonato a Borgomanero, con la DLL in a Usman. Grazie a tutti.